I giudici della Corte Suprema di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dai legali di fiducia dell'ex imprenditore rivano Ivan Zucchelli, che dovrà ora scontare 30 anni di carcere per l'omicidio della farmacista friulana e amica Daniela Sabotig. Zucchelli ha ucciso Daniela quattro anni fa inscenando il falso incidente stradale perché l'amica di lunga data non sarebbe più stata disposta a coprire le spregiudicate operazioni finanziarie nelle quali Zucchelli si era avventurato per anni, sperperando i soldi della donna. La sentenza di ieri fa seguito ai due precedenti gradi di giudizio. Il 4 luglio del 2014 il GUP di Rovereto aveva riconosciuto la colpevolezza di Zucchelli e lo aveva condannato a 30 anni di reclusione. Il 15 luglio dell'anno successivo la corte d'appello aveva confermato quel pronunciamento. di giudizio. di giudizio. di giudizio.